Due beni confiscati all'Andrangheta, Rosarno acquistano nuova vita, si tratta di un locale in corso Garibaldi e un centro sportivo con annessi campi di calcetto, incontrata a Carozzo, che sono stati consegnati all'associazione FIABA Onlus, ovvero del Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche di Roma. La convenzione è stata sottoscritta ieri nel municipio di Rosarno tra il comune e il presidente dell'associazione, Giuseppe Trieste, alla presenza del sindaco Giuseppe Idà e del capogruppo di minoranza Giacomo Saccomanno. Grande soddisfazione tra le parti per questo inizio di percorso, che potrebbe anche essere ulteriormente arricchito con una collaborazione attiva per migliorare le modalità di vita della città, seguendo le recenti linee guida fissate dagli esperti in materia che rientrano in un progetto portato avanti dall'associazione romana. Il presidente dell'Holus romana Trieste ha rassicurato il sindaco Idà che le iniziative indicate nel progetto di presentazione della domanda di partecipazione al bando verranno realizzate anche se saranno molto onerose per l'associazione. Infatti è stata sottolineata la circostanza che i campetti di calcio, inutilizzati da circa un decennio, necessitano di un radicale intervento di ristrutturazione in modo da corrispondere alle esigenze dei giovani sportivi. L'immobile sul corso, invece, può diventare un centro di riferimento per attività di carattere sociale, soprattutto a favore delle fasce più deboli. In tal senso, rassicurazioni sono state fornite anche dal capogruppo di minoranza Saccomanno, vicepresidente nazionale di Fiaba, secondo cui si farà di tutto per rendere i suddetti beni fruibili e punto di riferimento per l'intero territorio. La Olus ha come obiettivo quello di promuovere l'eliminazione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione della cultura e delle pari opportunità a favore di un ambiente ad accessibilità e fruibilità totale, soprattutto per i giovani disagiati e le fasce più deboli.